Ben ritrovati al nostro appuntamento con il notiziario di Canale 81 e andiamo a vedere le notizie del giorno. È partito da Piazza Vittorio Emanuele a Roma intorno alle 14.30 di ieri il corteo promosso dal comitato primo giugno contro il governo Meloni. In una piazza blindata si sono riuniti i rappresentanti di circa 50 sigle sindacali e esponenti di potere al popolo. In strada anche associazioni, studenti universitari, comunità palestinesi e migranti a sventolare bandiere rosse del Partito Comunista della Palestina in marcia verso Porta Pia. La manifestazione è stata organizzata per contestare le politiche del governo Meloni e intorno alle 17.30 si sono verificati degli scontri in coda al corteo. Le tensioni in via Vicenza dove il gruppo dei collettivi della Sapienza, come riporta l'Agenzia Dire, ha cercato di sfondare un cordone di polizia con degli scudi di plexiglass. Il gruppo è stato respinto con i lacrimogeni dopo un lungo scontro con la polizia. E proseguiamo. Il 2 giugno di un anno fa l'inizio del dramma. Le fiamme che avvolgono i palazzi e le persone che fugono. E' il bilancio del rugo che ha distrutto la vita di 24 famiglie a Colli da Niene. Un bilancio pesantissimo. Un morto e decine di feriti. A 365 giorni dall'incegno nulla. In pratica si è mosso per dare una risposta agli ex residenti. Oggi su via De Onofre è comparsa un'ossessione per ricordare il rugo dell'indifferenza. Da quel giorno 24 famiglie sono rimaste fuori di casa e alcune persone ancora oggi portano sul corpo i segni di quel incendio. E proseguiamo su una notizia in provincia di Roma. Una macchina in mare immersa fra le onde come se stesse facendo il bagno. E' lo scenario che è apparso ieri mattina sulla spiaggia di Tor San Lorenzo ad Ardia. Nei pressi dello stabilimento la Venere in bichini sul lungomare dei Troiani. La vettura è una Ford Fiesta immersa nel mare con le ruote bloccate nella sabbia del bagnasciuga da ore. Dopo i tentativi di estrazione bisognerà capire come quell'auto è arrivata fin lì. E proseguiamo. Il padre era rimasto bloccato nel traffico con il bambino che peggiorava a vista d'occhio. L'ospedale era ancora lontano. Era il 30 dicembre del 2023. Il piccolo Marzio, sei anni, era riuscito ad arrivare in tempo al bambino Gesù e salvarsi solo grazie al provvidenziale incontro con una pattuglia dei carabinieri che aveva scortato la famiglia fino al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico. Dopo cinque mesi di cure il bambino di sei anni sta bene ed è tornato in caserma per riabbracciare i suoi amici carabinieri. E vediamo un'altra notizia. Oggi è 2 giugno. C'è la storica e tradizionale parata, deviazioni, chiusura al traffico già da ieri pomeriggio fino al pomeriggio di oggi, in occasione delle celebrazioni della festa della Repubblica. Cambia la viabilità nel centro storico e i percorsi dei mezzi pubblici di trasporto per consentire l'inizia di vedere il Quirinale. Poi tra Piazza Venezia e tra i fori imperiali ci sarà il blocco al traffico, ovviamente. Quindi vi invitiamo a informarvi su come spostarvi in modo più agevole nella capitale per la giornata di oggi. Noi con questa notizia concludiamo il nostro notiziario. Grazie per essere rimasti con noi. Non cambiate canale.